Chi sono i cattivi profeti? Commento. Quelli che in cambio di ricompense di qualsiasi genere producono turbamento tra gli esseri servendosi delle loro facoltà. Sono falsi i profeti anche quelli che profetizzano la maldicenza e scoraggiano il prossimo nell'essere migliore. Sono degni invece della profezia quelli che offrono umilmente stimoli per la buona vita e anche i grandi intelletti.